La felicità non è una cosa che puoi comprare come questa bellissima scarpa. La felicità è una strada, è un percorso. E attraverso questo percorso oggi sono arrivata qui, a San Mauro Pascoli, in Romagna. Questo posto da qualche anno è conosciuto come il distretto della felicità. La mia vita è cambiata, ho più tempo libero per me, per i miei bimbi, per i miei hobby. Ho quindi meno stress, meno fare le corse di lavoro per andare da una parte o dall'altra, per andare a fare commissioni. E quindi riesco a godermi la vita e essere meno stressato, quindi ovviamente anche più felice. La felicità è avere tempo. Eppure qui non è che si lavora poco. Anzi, siamo in uno dei distretti più produttivi d'Italia. Qui ci sono circa 200 aziende, 4.000 lavoratori e più del 60% è composto da donne. Ed è da una donna che vado, una imprenditrice, per farmi spiegare come si fa a liberare il tempo. Ho cambiato l'orario di lavoro della mia azienda, riducendo la pausa pranzo da due ore a un'ora. La pausa pranzo più corta permette di uscire prima dal lavoro, ma all'inizio gli uomini erano scettici. Poi invece quando è stato applicato questo nuovo orario, che era principalmente per migliorare la vita delle donne, in realtà è migliorata la vita di tutti. E oggi posso dire che nessuno più tornerebbe indietro. Ci credo che nessuno vuole tornare ai vecchi orari di lavoro. Se si finisce di lavorare alle 5, si ha molto più tempo libero a disposizione. Ad esempio, Elisa, Erika e Simona stanno uscendo adesso dal lavoro. Voglio andare a seguirle per capire cosa fanno nel loro tempo libero. Fanno quello che vuoi. Alla goccia! È bellissimo, è bellissimo perché ho più tempo per me. Solo un'ora, ma è un'ora che conta tantissimo. Si ha l'impressione di avere tutta un'altra giornata a disposizione. Posso seguire molto di più i miei genitori che hanno più di 80 anni e quindi a loro capita sempre più spesso di dover essere accompagnati da una visita medica o a fare qualche commissione. Per fortuna anche gli orari dei servizi pubblici si stanno adeguando a questa nuova esigenza. Qui a San Mauro si può andare dal medico di base alle 8 di sera e pagare una bolletta in banca fino a tardi. E tutto è stato possibile grazie all'intuizione di un uomo. Luca Piscaglia. Luca Piscaglia fa il consulente del lavoro. Nel suo studio lavorano 3 uomini e 27 donne e ciascuno sceglie l'orario più adatto alle sue esigenze. Sto svolgendo un'attività di ricerca, un dottorato in diritto del lavoro all'Università di Siena. L'orario flessibile che c'è all'interno di questo studio mi permette di conciliare l'attività del praticantato con l'attività di studio e di ricerca. E inoltre Luca mi dà la possibilità di andare a Siena quando ne ho bisogno. A rientro dalla maternità l'asilo comunale non era disponibile. Avrei dovuto iscrivere mia figlia all'asilo privato e la retta era molto importante. Luca mi è venuto incontro in questa cosa e si è fatto carico della spesa, permettendomi anche di fare un orario continuato flessibile per andare a prendere e portare mia figlia all'asilo. In questo modo il rientro dalla maternità è stato vissuto in maniera serena e tranquilla e tutta la mia famiglia ne ha giovato. È arrivato il momento di farvi conoscere Luca. Luca Fiscaglia, l'uomo che ha messo in moto tutto questo, colui che ha liberato il tempo. Benvenuto, grazie, prego. Luca Fiscaglia, Lucia Mascino per provare a capire questa rivoluzione che ha portato a un distretto, un posto che si può definire distretto della felicità. Perché un lavoratore felice è un lavoratore che rende di più, questo è un po' il tuo motto? Questo sicuramente, questo è l'inizio di tutto, riuscire a mettere al centro la persona che c'è dietro il lavoratore. Perciò se metti al centro la persona, stai attento alle sue esigenze e lui affronta il lavoro in una maniera completamente diversa. Si sente partecipe, si sente coinvolto, si sente vivo nel lavoro che fa e ne giovano tutti. Ne giova l'azienda, ne giova lui, ne giova la famiglia, ne giovano tutti. La felicità è avere tempo, Lucia? Beh, sicuramente avere il tempo in un ritmo che ti si confà, nel senso che ognuno ha un suo ritmo. E questa cosa, per esempio, che voi avete fatto, dovrebbe essere fatta dappertutto, ma penso anche il fatto di precipitare la mattina, per esempio, alle sette e mezzo, precipiti, vesti i figli, va alle porte a scuola, è una violenza ogni mattina che dici ma un pochino, ma appena dopo, no? Per tutti, ma saremmo tutti più contenti, penso, non lo so. Sono quelle cose che dice Lucia, così istintive, naturali, eppure invece ci arrabbattiamo, come sa bene appunto la protagonista di Mamma Imperfetta, che citavamo Chiara che deve solo correre, per esempio la notte continua a correre, non si ferma mai. Voi come ci siete arrivati? Perché voi ce l'avete fatta? Noi siamo in cammino, non siamo arrivati in fondo. La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di, prima di tutto, cambiare gli orari. E cambiare gli orari in un comprensorio come il nostro, che era così da 50 anni, non è stato facile. Quando siamo partiti, all'inizio abbiamo anche fatto un sondaggio, grazie a una collaborazione con Italia Lavoro, abbiamo intervistato quasi 700 persone, queste 700 persone ci hanno detto il 60% che non volevano cambiare, il 40% sì. Chi voleva cambiare? Nel 40% erano le donne e i giovani. È strano, le nuove generazioni e le donne ci dicevano si vogliano cambiare. Allora è iniziato un percorso che è durato tanto, perché tu pensi che abbiamo cominciato a lavorare a fine del 2013, siamo nel 2019, ce n'è voluta. Però alla fine ce l'abbiamo fatta, la Romina che abbiamo visto è stata la prima e poi dopo di lei ce ne sono arrivate tante altre. E si arriva lì, no? Ciascuno sceglie l'orario in base alle proprie necessità, che sembra impossibile, no? Se bisogna lavorare tutti e produrre tutti più o meno con gli stessi tempi. Invece lì si può, questo può accadere, esiste, questo posto è vero. Diciamo così che abbiamo conciliato le esigenze degli uni e degli altri. Aziende che lavorano in una catena di montaggio non possono entrare in orari diversi. In uno studio come il mio, ognuno può organizzarsi sicuramente con degli orari diversi. Bisogna trasferirsi lì. Bisogna andare tutti, veniamo tutti da voi. Però siete un modello comunque. In tanti adesso vi cominciano a studiare. E noi siamo qui per dire grazie, grazie mille. Grazie mille.